Chi l'ha detto che non possiamo essere chic anche indossando un paio di sneakers? Ciao, sono Carlotta di Calziature Nucca e oggi ti faccio vedere 5 nuove sneakers di Stockton gioiello chic, eleganti, particolari, giuste per te, che sì vuoi rimanere comoda, avere una scarpa da portare tutto il giorno, però che sia un po' particolare, un po' elegantina, un po' chic appunto, un po' raffinata. Farò due video sulle sneakers gioiello, quindi mi raccomando rimani sintonizzata, ma senza ulteriori perdere tempo, let's go! Voglio cominciare questo video da lei, sia perché è molto carina, che perché, diciamolo, abbiamo tutti bisogno di un po' di fortuna nella vita. Questa l'ho nominata la scarpa scaccia malocchio, porta fortuna. Partendo dai gioiellini, ti faccio vedere questo cornino, il quadrifoglio, con scritto love dentro, quindi porta fortuna e in amore, attenzione, e il ferro di cavallo. È una scarpa leggera, con questo platform ton su ton, un po' più alto dietro, perfetto per la postura, e in questo color cuoio, tutto scamosciato. Se sei un amante del rosa e del fucsia, in generale, direi che questa, invece, è la versione che fa per te. Se non hai bisogno di fortuna, ma solamente di un po' di rosa e di qualche profumino, eccolo qui. Ha tutti questi gioielli a tema profumi, eccoli qua, c'è anche un rossetto. Anche qui abbiamo la stessa identica scarpa, con la stessa struttura di quella di prima, leggera, leggera, suola ton su ton, perfetta per dare un po' di carattere e un po' di colore ai vostri look autunnali, invernali. La terza scarpa ha la stessa identica struttura delle due precedenti, sempre ton su ton, ma su questo colore beige. Come possiamo vedere qui, non abbiamo i gioiellini sui lacci davanti, ma abbiamo queste due bande laterali, tutte di strass, in questo colore tutto sfumato, che va dal bianco platino all'aranciato dorato fino al blu. Passiamo alla quarta scarpa e passiamo ad una struttura diversa. Questa sneaker alta, con il fondo a cassetta, come puoi vedere, le due bande laterali, in questo color nude, rosino. Il colore della scarpa è un panna, con il talloncino dietro in laminato, e veniamo al gioiello. Quanto è bello, se sei amante della natura degli animali, eccolo qui, fa per te questa pina, formata da due perle e tutti i brillantini. L'ultima sneaker del video di oggi è questa, bassa, con il fondo a cassetta, lo stesso tallone di quella di prima, la banda laterale, eccola qui, le bande laterali, da tutte e due le parti, in rosino sempre, ma questa volta la scarpa è in questa tonalità beige. Siamo arrivate alla fine anche del video di oggi. Mi raccomando, lasciami un cuore se il video ti è piaciuto e se ancora non mi segui, mi raccomando, comincia subito. Facciamo diventare questo pulsantino da blu a grigio. A me non resta che salutarti, mandarti un bacio e aspettarti il negozio. Ciao!